Banche Padovane, una buona notizia per i soci di Credi Veneto, ex credito cooperativo di Montagnana e per quelli della BCC Alta Padovana. I soci di Credi Veneto potranno accedere al fondo in attuazione che questo governo sta inserendo con la legge di bilancio e quindi c'è una speranza di un 30% da conto e a seguito quello che naturalmente si potrà in base ai conti dormienti. Il tutto perché è messa in liquidazione coatta dopo il 16 novembre 2015, come recita la legge del dicembre 2017. Così la buona notizia c'è anche per i soci e risparmiatori della BCC Alta Padovana di Campodarsego. Essendo stata messa in liquidazione il 15 dicembre 2015, per un mese sono dentro al fondo che è stato istituito, il fondo del ristoro. Il fondo di ristoro finanziario spetta a quei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto dalle banche, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri. Ha una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. Sul sito dell'associazione Zelino Terzo da Onara tutte le informazioni. La prima è che viene riconosciuto un acconto del 30%. Lunedì incontro pubblico a Montagnana con gli ex soci, circa 9.000, che dopo la messa in liquidazione coatta del locale credito cooperativo da parte della Banca d'Italia nel maggio 2016, il giorno prima dell'assemblea dei soci, circa 20 milioni di euro di risparmi di famiglie e piccole imprese della Bassa Padovana e Veronese andarono in fumo.